Ciao a tutti, mi chiamo Luca Zanetti e in questi pochi secondi di video voglio raccontarvi la mia esperienza come studente in NAND. Attualmente sto frequentando l'architetto Ural Design School e sono al terzo anno del master triennale, dove questa mia avventura è nata verso la fine degli anni 2019, che è lo stesso anno in cui sono venuto a conoscenza di questa accademia. All'epoca però venivo da un percorso di studi completamente diverso, però sono sempre stato attratto, affascinato dal mondo del design, quindi ho deciso di chiedere un primo colloquio conoscitivo con la scuola e mi sono buttato, così per scommessa personale mi sono iscritto al primo anno. Subito mi sono rimasto molto contento perché ho trovato professori molto bravi, disponibili all'altezza, comunque essendo tutti professionisti del settore. Le materie e i programmi che venivano insegnate erano spiegate in maniera molto dettagliata e così anche da permettere la mia conoscenza di arricchirsi a 360 gradi. E cosa molto importante io che lavoravo, la possibilità di seguire le lezioni non solo in presenza, ma anche in modalità registrata, così da recuperare le lezioni quante volte volevo e quando ne avevo più bisogno. Un'altra cosa molto carina che ricordo sono le uscite didattiche o gli incontri di design con persone importanti del settore, che mi hanno permesso comunque di arricchire le mie conoscenze in questo campo. Contento e concluso il primo anno, ho deciso di proseguire e mi sono iscritto al Master Biennale. E questa scelta ha cambiato la mia vita perché si sono aperte un sacco di opportunità e finalmente avevo una strada chiara da seguire. Inoltre mi è stata data la possibilità di diventare tutor dell'Accademia, che sono quelle persone che seguono i ragazzi del primo anno in modalità registrata e faccio da ponte con l'Accademia e questi ragazzi, con gli studenti. Però da studente, se io devo vederla come studente, in NAD ho trovato tutto quello che cercavo. Inoltre per concludersi mi chiedessero se rifarei questa scelta ancora, risponderei 10.000 volte sì, perché se anche tu sei come me e sei attratto da questo mondo ma non sai da dove partire, NAD è il giusto punto di partenza. E perché semplicemente ricordo che la prima sensazione, diciamo, è sempre quella più onesta.